Ben tornati e buona giornata da Meteo One. La bassa pressione annunciata ieri ha oggi raggiunto le regioni settentrionali italiane. Nel corso della giornata questo fronte perturbato scorrerà lungo tutto lo stivale, apportando diffuso maltempo anche sul sud Italia dalla sera. Nei giorni successivi persisteranno condizioni di maltempo diffuso, ma ne riparleremo. Ma andiamo ora a vedere il tempo sulle nostre regioni per lunedì 5 settembre. La giornata si dividerà in due parti. Infatti al primo mattino il tempo si presenterà soleggiato su tutti i settori, con presenza di nuvolosità sparsa o al massimo velature. Ma attenzione, dal pomeriggio sera le condizioni meteo cambieranno. L'arrivo della perturbazione prima annunciata porterà forti precipitazioni a partire dal nord della Puglia e della Basilicata e perdureranno per tutta la notte. I fenomeni, localmente, potranno presentarsi di forte intensità con elevati accumuli. Le temperature, come vediamo dalla grafica, risulteranno ovunque in diminuzione in maniera consistente a partire dal tardo pomeriggio sera. I venti, inizialmente deboli, dai quadranti meridionali si disporranno dal pomeriggio dai quadranti nord-occidentali, con deciso rinforzo a partire dalle aree a nord. Mari da poco mossi, ammossi o agitati dal tardo pomeriggio. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro telespettatore Gabriele Calò per questo magnifico scorcio da Torre dell'Orso sulle bellissime spiagge salentine. Se volete inviarci la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappula, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella puntata di domani. Grazie per l'attenzione e vi auguriamo buona giornata.